Cari amici oggi incontriamo Rudy Mascheretti, un giovane e blasonato artista internazionale che è nato ad Alasso e quindi come tutti gli artisti poi vogliono tornare nella sua città per creare quel punto importante, quella vetrina di prestigio e lui così ha fatto. Il suo maestro conosciamolo meglio, lui si chiama Rudy Mascheretti. Ciao Luca, eccomi qua e ho realizzato il mio sogno di avere una mia vetrina nel centro della mia cittadina ad Alasso. Qui potrete trovare le mie anteprime, i miei quadri usciti freschi freschi dallo studio. La mia pittura nasce dall'interesse verso il grandissimo artista Caravaggio per arrivare poi ai giorni d'oggi e trovare le colorazioni degli espressionisti e le forme quasi astratte. Quindi ragazzi visitate, visitate perché è uno spazio sprecato come diceva Andy Warhol. Originale Mascheretti, interessante, eclettico. Veramente geniale, ha fatto veramente un ottimo lavoro. Rudy Mascheretti è molto bello. È molto bello, mi piace il suo pittore, soprattutto le nuove ragazze, quindi è molto bello. Un artista molto profondo. Lo spazio è meraviglioso, lo ha allestito veramente bene. Questa apertura ad un atelier personale, di uno spazio dove le persone possono incontrarlo e parlare con lui è solo un passo ulteriore verso il suo futuro artistico. Rudy Mascheretti è il numero uno. Da Alassio è tutto, Rudy Mascheretti, la mia vetrina, spazio sprecato. E non finisce qui.